queste sono le creazioni del nostro pino che inesauribile vedo che sia infinita tutto scomparsa bellissimo c'è un rispetto veramente dell'ambiente infatti la nostra brochure anche sul sito questi sono i particolari vedi quegli interruttori della robinetteria che poi è tutta antichizzata qui chiaramente c'è qualcuno che si lamenta perché dice la doccia è